La sua grande forza come mamma single Charlize Theron e la sua grande forza come mamma single Una delle attrici più acclamate di Hollywood, oltre che una tra le donne più belle del mondo, Charlize Theron possiede il dono unico del fascino e sono in tanti a non resistere al suo carisma. La sua carriera è costellata di successi, tra cui la vittoria del premio Oscar, ma il suo dono più grande è stato diventare mamma dei suoi due splendidi figli, Jackson e Auguste. Il dono della maternità secondo Charlize Theron. Secondo la biondissima attrice di origini sudafricane, la maternità è il dono più grande che potesse pensare di ricevere, i suoi due figli sono come l'aria che respira, indispensabili e magnifici. . Entrambi sono stati adottati quando Charlize era single e la star di Hollywood non ha mai avuto difficoltà a manifestare la sua opinione, non è indispensabile avere una relazione per poter essere genitori. . Proprio dopo la fine della relazione con il collega Sam Penn, la Theron ha deciso di avviare le pratiche di adozione della piccola Auguste si è dimostrata più felice che mai di questa scelta. . In più occasioni l'attrice è stata fotografata per le strade di Los Angeles per mano ai suoi due bellissimi bambini, più raggiante e felice che mai, la sua carriera è importante certo, ma mai quanto l'amore per la sua famiglia. . Il desiderio di maternità di Charlize è nato fin da quando era ragazzina ed è sempre stata consapevole del fatto che prima o poi sarebbe diventata mamma, che fosse stata sposata, fidanzata o single. . E così ha fatto, una volta raggiunta la solidità e la stabilità personale, l'attrice di origini sudafricane ha intrapreso un percorso non facile, quello di diventare madre senza avere un compagno al suo fianco. . Dall'entusiasmo che traspare dalle sue parole quando parla dei suoi figli, sembra proprio che abbia preso la decisione giusta. . La ricetta per essere felici. Bellezza, talento e carisma, queste sono solo alcune delle doti che vengono riconosciute a Charlize e Theron, considerata da molti un'icona di stile irraggiungibile. Dopo un passato burrascoso, ha iniziato la sua carriera di modella e poi di attrice, ottenendo una serie di riconoscimenti di altissimo livello. . La star di Hollywood ha sempre amato il suo lavoro, considerandolo quasi una vocazione, da vivere al 100%, senza mai limitarsi, lo testimoniano alcune pellicole in cui ha recitato recentemente, come Atomica bionda, in cui è andata incontro anche ad una serie di infortuni piuttosto dolorosi. . Accanto al suo successo come attrice, la bella Charlize ha anche coronato il suo sogno di crearsi una famiglia in cui l'amore e i sorrisi non manchino mai. . . . . . . . . Una mamma single strepittosa, capace di conciliare alla perfezione ogni tipo impegno, Charlize e Theron è davvero una fonte di ispirazione inesauribile. . 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